Si chiama Kelly McKean, è un uomo di 51 anni di età e costui avrebbe sputato alla guardia giurata che lo avrebbe invitato ad utilizzare, a mettere, a indossare la mascherina anticontagio, la mascherina contro il covid-19, il coronavirus. L'uomo così, dopo aver ricevuto da parte di questa donna, guardia giurata, la rettifica o meglio l'avvertimento di indossare correttamente e di utilizzare quindi la mascherina, il dispositivo di supporto e di aiuto per eccellenza, ecco che ha pensato bene di andare a sputarle direttamente in faccia. Per questo motivo, l'uomo è stato arrestato. Un uomo, cioè no, un processo, è stato aperto a suo carico. Ovviamente, davanti ai poliziotti, l'uomo ha negato ogni addebito, ha negato di aver sputato la donna, ma ormai purtroppo il danno era fatto, nel senso che le telecamere hanno ripreso il fatto che l'uomo ha per l'appunto compiuto i gesti in questione. Processo penale, arresto e adesso bisognerà vedere quello che accadrà. Grazie a tutti, il video termina qua. Iscrivetevi al canale, andate a commentare. Un saluto caro e al prossimo video.